Gustava Inna è stata fatta con il saggiudio della regione Sarda, imprenta del 2023-2024, lei regionale 22-2018, articolo 22. La cosa bella, ogni gira si attuviare in noi, in questa radio televisione Sarda, nel suo programma che poi si scostiene di gira e citata, voci di Veminas, a pizzo proprio dei voci, dei artisti della Sardegna nostra. E oggi sono due voci di Veminas, sono due voci, due sorrisi, due cantatori di questa Sardegna nostra. Siamo in Muros, in Domo di Gianfranca e di Noemi Mulas. Salute a voi. Buonasera a tutti. Grazie a voi per questa bella opportunità di casa Donato di venire a Domo di voi in Muros. Muros, questa è una vita di cantare di Muros, ho aperto questo... Vedi una vita di cantare di Sardegna, come la verità di appellare di Muros? Non è più giovane, la tradizione se non sono comunque esiguita in Bidda. Eh, è usato su, quando sei giovane, se ho detto, se tu è Gianfranca, sei per un anno di Noemi di uno scanto 10 o 11 anni su, però è cominciato ad entrare nel mondo del cantare di Sardegna, commenti, passioni dell'uomo, 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 dell'uomo... Com'è te? Chi è che vi ha appassionato? Sì, adesso è appassionato di mamma, adesso è appassionato di babbo. Perché c'è stato duoso comunque in vita diversa, sia in romana babbo che mamma immuroso. ha una buona passione, quindi Gianfranca ha già cominciato ad essere più amma e io da voi e tantos anni ho saputo comunque esiguita con la tradizione della famiglia, che poi è proprio una tradizione che abbiamo visto in domo. Bene, beh questa cosa è bella, vivi in famiglia con questa bella passione, poi tradizioni, se vuoi, scanto sul nostro. Ma ho saputo che sei femminile, ho sentito, domando prima a Gianfranca, poi a Noemi, ho sentito un modello ispiratore delle femminile. a me mi adappragi a cantare come ti cantai con questa femmina, manna, insomma. In Sardinia non ti traballa un metà dei bruci su dei sommini, si può affermare, puoi entrare in questo mondo del suo canto usato. Poi s'altro su chi ti tenete come te modello? Sì, tu tenete? Tanto, te ho una rosa verità, te ho come te modello, non ho mai seguito un'occhio femminile, non ho. raramente ho sentito il suo canto delle femminile, ma ho sentito solo il canto dei uomini. Ah, bene. Sono più forti a me, però non ho sentito proprio a me. Il suo cantatore che ho apprezzato a me, però a me è uno dei più uomini, è Tonino Cano. E io voglio ripetere questa mattina. Sì, è vero. Tu è vero, non ti è stata una femmina come te riferimento, mamma? No, 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 no. Ma questo forse è causa della passione che hai da babbo, babbo. Maschilista. Maschilista. Infatti, questo vi incontro questa femmina, se da voi si è accattato proprio con due, sa, quindi... è nuda. Quindi noi, fin dai minori, abbiamo sempre ascoltato il canto prettamente maschile. Quindi noi non abbiamo una cantadora preferita, ecco, niente. Abbiamo sempre apprezzato tutto il canto. Noi l'apprezziamo in una stessa maniera di cantare. Però a noi c'è la melodia. Quindi, questa femmina ha sempre comunque considerato Giussi Dejana, una della mezza, comunque, femmina, che secondo noi si ha aggiunto su canto salto in maniera melodica. Giussi Dejana, dopo una notte che non ha cominciato a cantare, Gianni Medda ti ha fatto sul duo di Oliena. Una volta via di Issa e Maria Luisa congiù. Dunque, se in noi, però, in questo mondo che è andato su maschilista, no? Non ci sono stati metà ommini e femmina, come ti sa cantare? E' più traballosa, poi, femmina, sa fermare in questo mondo, dipiccicare a entrare, partecipare a gara. Com'è in te questa condizione? E' molto difficile. Infatti, Medda ha disacollegato a chi canta Iana, ha lasciato proprio questo motivo. E su una data saprò proprio come Maria Luisa congiù, che ha incominciato con il suo canto a chiterra, ha comunque cambiato ed è andata comunque questa musica etnica. Però quando il suo canto, lui che si è in suo coro, purtroppo non ti dà questa gana di poter cambiare, perché comunque... Ti deve innacchere. Ma poi da bocci che tenevo usato, sei una bocci proprio con ascia, con il suo canto a chiterra. Si, c'è una data di studio, dai quando fiamm entra e mamma, ha poi sempre inteso e quindi sono anche da proprio con il suo canto, con il suo canto usarlo. Contami come ti sei arrivata a suo palco e il fatto che lì in quel concorso, tu hai compensato con Gia Franca, la stessa rubana, e cosa gli ha compensato prima? E una cosa si deponava, tutti i due, anzi, cominciavo a 21 anni, ma no. Proprio a 21 anni costa a due. E' una bella cosa costa. E poi cantare e si imparare, ma ci arrivavo a pagare a pagare, come ti ha cominciato? Come ti sei arrivata a suo palco? Ha fatto un concorso, tanta giudao? Come ti sei arrivata? Deo so, sopraffita a Naramu su Giai, però io no, in sabbida sono i cosi, i chiedesi, ma questa tradizione che d'ogni anno ogni famiglia ha occhi su poco. Ah beh, certo. Quindi per noi, in questa occasione, vi fido una vecchia. Quindi, venivano a so parentesi, so amico, so amandicare, quindi, noi accattavamo tutto, tutto imparare, e su zero, o, nara iana, ma, già amamo su una chitarra, che facciamo due bocheze. E, subito, io amai iana, e accattavamo su chitarra, e simboliano a cantare. E, uno di iè, e ho, mi sono accattata, a, a, forse a meso, no? Il proprio meso, e, vivi di padre nomeo, e mi è andato, Gianfra, provo a cantare, e ho via timida, non, non, non credo mai, di poter, di mi portare a cantare. Cantando, stai a stanzare su? Stai a stanzare su? Stai a stanzare su. ma, comunque, da poi, i due anni, sono piccata, su piccata in suo palco. Però, tu sei spantao, se tu sei posta a cantare. quando l'ho mai inteso, mi hanno detto, cavolo, tu sei una cantatora? Ah. E ho, sui tata gai, mi chiedo, ma pu, i te vi ho fattene, la verità. Da cui, da poi, sono passato, i due anni, non ho, tornato a cantare, e, da poi, i due anni, non so, non ho, e si interviene da, Noemi. Sorre mia. Ecco, tu, com'è in te, che sei arrivata? Teni questa, sa proprio passione, di sorridua? O è stata una cosa, che ha fatto, poi sfida, poi, a cantare di sorridua? Deo ha cominciato, proprio per sfida, però si sfida mia, fidi comunque, qualche cosa che, sempre io entro, casinò, su quanto è talmente difficile, che comunque, non si potete, andare a cantare, in giro, di nuda. Deo ha cominciato a cantare, proprio per sfida, che aveva in suo telefono, con uno, amico della famiglia, che aveva sempre, si chiede con Gianfranca, comunque, non sa che a te, con un suo amico, insomma, amico della famiglia, e, e, finì ho in suo telefono, con uno, amico della famiglia, che aveva in giuria, in uno premio, in sull'umedo, ed è in suo telefono, l'ha ponato, fidi sotto, de freasu, su concorso, fidi su primo, de marzo, in sull'umedo, ed è una ponato, fai dende proprio, de questo concorso, l'ha ponato, fai una cosa, e criemi, chi chiesò partecipare, e su manato, ma, se macca, no, no, l'ha ponato, chiesò comunque, partecipare, come è andata, andata, non partecipro, per una vittoria, ma partecipo, che sui dire, come questa gente, e potete reagire, quando mi intende, fai cantende, e gai, appo fatto, in giro del 22, e su andata, mi sono preparata, appo solo, con questa chitarra, appo solo cantato, due borras in domo, basta, da caso tempo, non fidi, comunque, e soprattutto, non si può dire, ma comunque, adattare su chitarra, come tesicheria, e, ha partecipato, in Sulumedo, e sulumedo, hai concorso, via, così, fatti, forse, un concorso, che hanno fatto proprio, Gussanu e Bassata, un concorso, di Bocchinoasa, e, diveni, già comunque, persone, che comunque, cantano a me, da primo dei miei, comunque, con una preparazione diversa, nonostante comunque, ehm, ripeto, su quanto mi finna, non fio preparata, non fio allenata, e, come è andata questa cosa? è andata bene, non so entra, non so entra in finale, devi già conoscenza di questa cosa, che è impossibile, è, è nuda, ed è andata bene, la gente che è andato finito, a parte, che quando mi ha vinto, Dio, Dio, che ho visto in questa serata, e quindi quando mi ha vinto, sopra sul palco, è andato, così, in aspettato, in aspettato, dopo il 20 diese, che io ho deciso di partecipare, e, e noi, questa gente, è andata comunque, me è contenta, ma è andata comunque, che io sa, che pro, pro poter andare avanti, e, 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 comunque, la carriera, paga, ma, a casa mia femmina, se siamo su, è sempre, uno vago, e, vantaggiata, però, dai quelli, cominciata, questa passione, che ha poi, io tu, vinto a partecipare al concorso, su, un concorso del Ninja Carai, in Torpea, no, quando è successo questo? Eh, siamo fatti dentro, più, a manco, del tuo amico, a tutti, si, e questo, da vinto, è stata una cosa, che ti ha, consacrato, in qualche modo, o, c'è, il premio dei ottieri? Ma, in ottieri, mi sono sempre classificata, comunque, al su signolo, sono sempre entrata in finale, non ha poi mai, ma in chi, cazza femmina, se c'è me da raro, che potano in chi, e poi, i ottieri, nonostante, nonostante d'otto inottieri ma non ha sempre andato finisamente a se come quando è capitato che hanno attitu comunque serata di femminas a saveritate da quando si ha cominciato a cantare so ha poi sempre partecipato ma non ha sempre comunque considerato quindi ottieri nonostante sia un'aida di appassionato, di intenditore soprattutto so sanziano che ancora ho e comunque Sighini, ma non ha sempre invitato la storia Manna Manna, di Piazza Cantare, di Piazza Cantare di Piazza Cantare, di Piazza Cantare, di Piazza Cantare, di Piazza Cantare, di Piazza Cantare adesso ho sempre entrato in finale e da cui ho provato il suo concorso, il suo naramo sul più importante, ma io l'ho provato soprattutto per affrontare sul pubblico, quindi per a me vedi un affrontare proprio sul pubblico, per poter andare dai nanti e comprendere veramente che le vedi sul volume e io in suo palco ecco. E tu Gianfranca come te si ha relato con il suo pubblico? Ti ha detto sempre se ti misi ancora o se sei pronta? Beh, io penso che se ti mora non passa mai, assolutamente, che in ogni serata che facciamo, è ottimo, cioè il suo pubblico che l'ha affrontato. Certo. Sao che purtroppo è una cosa umana, uno di ebo di musicare, e quindi, e poi cantando, il suo canto a Kitterra naro è un'espressione interiore chiamoso. E quindi, in base a vincere, sa comente, noi intendimoso, cantamoso. Certo. Ma voi altro so, voi state a cantare, però scu' un uomini o con femmini in gara? Come ha inteso? Sì, sì, come pure con femmini in gara? Sì, sì, come pure con femmini in gara, però siamo comunque a beccati a tutto, nel senso che comunque cantamo con tutto. Certo. Certo. Cioè, se esci questa serata con noi, se più sono uomini, se noi non abbiamo problemi, comunque la facciamo su, anzi, si fide che comunque è più su, più su sentita naramo su, ecco. È vero, l'ambiente è difficile. L'ambiente è difficile, comunque... Se chiediamo cantare, noi dobbiamo accontentare di si pazzi che non riservano. Ridotto, ma... Ah, hai chiesti, no? Eh sì, purtroppo è gai. Tu e invece Gianfranca, hai partecipato al concorso di Antonio Nuvole in Piaghe? Ah, in Piaghe. E come in te femmini sull'entrata prima classificata. Un'altra vita del Porto Manno, intendi ora, po', su Cantu Sardo, di Piaghe. È tutto in questa zona, dunque, sul luogo d'oro. Ma c'è un luogo, una vita, un luogo, un luogo, una dica che è stata proprio usata su una serata di spanto che si ricorda ancora con un pregio manno. Che lì è successo a tu e a noi. Questa serata sono iniziata a tanti. È una cosa verità. L'ultimo è iniziata romana, sul 24 settembre, che c'è Zahida De Babbo, dove noi femmini non ne so mai attivano. E su di, per me è iniziata un'emozione. C'è proprio... Mi è venuto pure di piangere che Zahida De Babbo, del grande appassionato che è romana, comunque, ora, come in te ora, comunque si è iniziata e non mancano mai i fecchi, se noi è una bella Zahida De Babbo a Chiterra. Ma cantano pure il suo giovane. Cantano il suo giovane. E si chiede, comunque, come in te parla. Nonostante sia il minore e me ne si chiede. E noi, sì, abbiamo un abito su un'ora di partecipare. Gianfranco, in tutto il suo sanno che cantante non ha mai partecipato, che ha femmini, ripeto. No, assolutamente non mi sono mai andata. Non mi hanno mai invitato. E questo è la verità che mi ha insegnato me da. E capo di te. No, allora io sai De Babbo mio, il suo canto è l'inteso. E non ha mai chiamato mai una femmina a cantare. Proprio, in romana, per il suo maschilismo totale. Totale, poi ecco, il suo canto. Il suo canto è solo dei suoi uomini. Il suo canto è solo dei suoi uomini. Il suo femmina non la considerano nemmeno. Quindi, l'emozione è chiamata manna, ecco, quindi... Cioè, il suo samento su cui De Babbo non raccontava a chi canta io, da s'asserenata chi fa chi io, quindi tutta questa cosa sono passata, non sono passata, mi sono passata senza mente. E quindi, la mia abitata fosse una grande emozione, chi ha più inteso. Femmina, infatti, te ne sono ragionevole con tanti dei più faticati in meravigliosi dei suoi uomini. Io penso, però, Femmina al mannano hanno un tento di metà, da Candida Amara, Ninja Carai, Salon Zirudo, Cinni Funtistetti ha una mera mannano. In Galluda c'è Maria Teresa Perichetto che canta già di meravigliosi ancora oggi e tutto canta e canta bene. Dunque, però, tutta questa Femmina, Maria Carta è tutto, che ha fatto di più traballare bene, ha cambiato gittarrista, si ha fatto tutto una cosa di importo, che puoi atturare a livello dei suoi uomini, se è proprio spuro. Dunque, se è un po' cos'altro, c'è, di avere su di traballare in meravigliosi, su di faticare in meravigliosi, però su loro cesti, può cantare, no? Su loro cesti, cioè, su loro belle, però, sono comitato su un fin sattarato su, che Giammina ha sempre amato queste persone, Giammina ha sempre sommascioso. Sommascioso, no? E basta, va. Cosa cosa forse è cambiante. È cambiante. Comunque si sono un attimino a pesante, forse sanno fidate. un'opera che c'è andando in mezzo. Ma, Sommascioso, a noi saperi rari, nel mondo del suo canto in Sardegna, Sommascioso, e sa meri, ma hanno il suo canto, e sa ninnia, finché il suo canto del dolore, il suo titolo. Sommascioso, ha sempre cantato la vita dei suoi uomini. Dunque, è vero che ha cantato in domo, No, cantato in sorriso. In sorriso. In questo tempo, se avvengono a cantare il suo palco, è criticato. Certo, certo. È proprio questo. Quindi, secondo me, non l'abbiamo dimensi, cioè non si diano pure proprio questo, che comunque, ha il pregiudizio della gente in questo tempo. No, è vero che invece noi, a Pago a Pago, a scopitare tutto, molto santa pensare, a donare, e loro, e loro vanno, a sfermi una scantadora. Voi, ci diventi abbastanza, ci diventi mediasi cantatori. Secondo me è questa cosa. Ci sei, voi altri due? E altri, sei in attività? E altri a Trezobator, comunque che sono, non sono mediasi. Non siamo tantissimi. carriera, i professionali. Sì, sì, sì. Voi altri, cantatevi in Sardegna o andatevi nel circolo dei Sardegni? No, no. Deo Procomo non ho proprio mai in Sardegna. Sono andata in Belgio. In Belgio, allora. Sì. In Tatenesico, su Tempo Benidori, c'è questa possibilità di incidere un disco, di fare un video, di fare cose che vengono in questo mondo di questa musica differente da questo canto architerra. se vengono in conca, devi andare a registrare un disco, due sorrisi in pari. Sì, però, su Cantacchiterra, cioè, noi lo vedremo su proprio, cioè, nonostante comunque non sia bene, da pure a me, in questa idea, di commentare su un fattente comodo, di proporre ballos, insomma, per attirare un ballo di più su. No, no. Nenne su CD. Deveva che non uccidì una regista. Sì, no, no. Certo. Su CD solo su Cantacchiterra. Su Cantacchiterra, certo. Sì. Eh, la verità è, Deo, eh, Lugherio Faghere, da voi, mi, mi ponio sempre questo problema, ma, se esci male, ti potete pensare questa gente. Quindi, sempre, pensare io, a chi su, chi, mi potia la narrare. Certo. E non l'ha provato questo. E, come, il peremo su su pensende, infatti, mi vi ho proprio pensende, che c'è qualcosa che non so, ma anche, o, eh, cioè, chi non potrà ritare il suo ricordo. No, più che il ricordo, è una cosa che, secondo me, nel mercato è tutto. Poi, tu, 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 tu. E, tu, si andrà a Debruso, si aggirà a Debruso a cantare, scendere a Chiterra o a Chiterra è fisarmonica? La verità di Chiterra è fisarmonica è più bella. Con questa armonia comunque a questa gara si potrebbe fare che la sua balla, che la sua gente comunque la attira di più, comunque si balla. Si, la fisarmonica mi piace molto. E secondo me attira più la sua gente. Quali fonti sono ad ora che si traballano con un po' altro, che si braccia a Debruso a traballare con un po' altro. La verità di noi si... Noi sono chiterrista vissi, però comunque ultimamente la collaborazione si è con Nino Manca. Con Nino Manca. Nino crede in questa femmina. Nino è proprio uno della sua chiterrista che crede in questa femmina. Eh beh, Nino Manca ha una mera motivazione, che ha fatto un uomini di importo, sensibili, attenti e conoscitori di questo mondo. Questo è un storico del suo tanto sardo e tutto. E mi fa piacere che quando sei già pronto noi, poi dopo si saranno con questo tovio nostro. Proprio con due voci di canto in repota. Si vuole su internet, gli spettatori di questa radio televisione di sabato, solo non ti intendi. E dunque se ora sarai con Nino Manca e tutto, chissà, con Pange, dopo fai due voci. Ma mi pare che c'è questi demore di buro, no? Si sta come insegnanti. Quindi contami di questo ciò che... L'hanno trasmissi da... Trasmissi da Issa la passione, come? Issa è... Issa è... Issa è... In noi, in Muros, che non c'è pruso se perdi uno vago. No, se perdi tutto. Se perdi tutto. E ecco, Cos'altro, se sei in noi, sei sconnotta, se come cantatore, non puoi tornare a cominciare a coinvolgere la comunità, a fare a lui su voi, che torna... E a Muros è uno paese difficile proprio quanto riguarda questa tradizione. Muros è un paese difficile, proprio quanto riguarda questa tradizione. Muros è un paese difficile, non andata, non piacere. E quindi non si può fare nuda. Non si può fare nuda assolutamente. Siamo troppo vicino a Zatatari. È una... Una mentalità di me da moderna. E quindi... Nuda, non... Cioè, quando... Già, in Muros, comunque, non basta la continuità di questo comitato, proprio per festeggiare il suo patrono, che è una cosa fondamentale in tutta questa bidda. In Muros, comunque, non resiste a dare questa continuità di questo comitato. Non c'è il comitato. Non c'è il comitato. Non c'è il comitato nostro. E quindi, raramente, come si può fare nuda questa salvezza. E se è il comitato di questa leva, come funziona? No, no, no. Lei ha una sola persona, se... Su comitato questo, in teoria, lei ha una sola persona. Che è questa manna di Muros? Sant'Ainzu. Sant'Ainzu. In Ottobre. In Ottobre. E poi, in Settembre, abbiamo questa... Madonna di Buonugamino. Nostra signora di Buonugamino. Ah, perché questa è la festa del Portumanno, no? Eh, no, però, dai, no che è il suo attorno, su... Sant'Ainzu. Sant'Ainzu. È la festa più importante. Bene, bene, bene. Eh, però, fin di uscire, mancai tra ballenze con questa comunità. di Sibori, pago pago, torrai a seminare, torrai a fai cominciare all'uso. Eh, ma la gente non partecipa, da che non piacere, quindi non è... Cioè, non è seguita. Non è seguita. Quindi, fai una serata, da che non usare... Pro due persone. Pro due persone, se non ha proprio un senso, ecco. Certo. Cioè, la gente non partecipa alla questa serata. Mentre il caso è che che si è attaccata a Muroso, non manca comunque questa serata di Sibori. Eh, vabbè, come... Puro inizioni, cominciando un attimino. Ma perché questa differenzia, comunque. Eh, ma... In questo anno passato, fai più su... In questa gara, non manca io in casa. E come? In questo anno, non l'hai più più su, manca in casa. A cantare, cantare su canto a chiterra, si nata che è stata una gara. È stata una gara, è stata una gara accademica, non è che c'è... Ma è una gara di competizioni, c'è, no? Certo. Eh, andai a stabilità. Certo, certo. Non c'è, tendi boccai a fuori a sapere qualcosa, a capote, e frasi depruso al suo pubblico, a catturare l'attenzione di tutto canto. Ma, fra sorrisi, c'è stata una che due competizioni o no? Assolutamente no. Anzi, te ho potuto narrare che quando ho cantato, mi ha disansia, però a me e però a Isa. Quindi, insomma, proprio, assolutamente no. La competizione non mi dà più tra sorrisi. No, assolutamente. Eh, una cosa che suonata e che mi dà curiosa. Quando ho cominciato a cantare, eh, i sapi di, eh, adolescente. Eh, quando ho provato i misi in domo, i sei sciata. Quando ho raiata, a chi intendiata che vi mi proende, mi serraiata tutto su bacconese, che non devi fare che intende nulla di nessuno. Se date di questa gioventù e di questa critica, di questa critica, che nessuno comunque si chiara, comunque questa tradizione, e quindi questa gente. E quindi mi dà raiata, non deve provare. Sì, è vero, vero. Qua non si prova. Tanto mi s'è raiata tutto su bacconese, e devi finire pure da provare. E quindi non mi imponiata. E da voi. E invece, se voi. E invece voi. E questa gente la musula è stata un attimino narrare. Ma questa cosa è bella, si cresce, si picca la coscienza, delle cose. Infatti, penso sempre, che forse, non si usi a questi boi, o sa, genia chiarapennico, su tempo per i tori, ma anche se ti torri, in noi, in Murosetto, a Città e su Cantusani. Io mi auguro. Lo auguro. Poi questa, questa zona è costa, in noi. Su Locutoro. Il suo cuore su Locutoro invece. E certo, aonde si ascoltano, aonde nasce, aonde è pace su Cantusani. su Cantusani. C'è una cosa, che sia da, a Prasci me da fare, a voi altro tu, impario, a Sazola, una cosa che, ma è mia da Prasci a fare gusto, in Carrera, arrivai a sonare, a cantare, a fare. C'è una cosa, non ho desigio che tenessi. Devo, devo dire a cantare ogni dia, in Carrera. Talmente mi viene, talmente ha posa passione, è troppo umana. È troppo umana, chi lo chiamano che si cosa. E tu, tu, è una cosa, programma, un po' su tempo, benitori, in serata, costitivo, mi pare che ci sia, la possibilità di tornare, come sai, ma in Sierro è tutto, in Donia. Sì, sì, come in Sierro è tutto, Tutti, hai avuto manifestazioni, in teatro, nel luogo, e tutto canto. Dunque, mi pare che a questo tempo, ti spazzavo, perché noi abbiamo scelto in Mesoredda, un po' di regionale, un po' di comprendere meglio, se conosci meglio, i bogici della Sardina nostra. E poi, mi ha fatto un regio umano, nelle abilità, in questo mondo dei scantatori, dei scantadori, questo è un mondo che ha bisogno di essi, sempre sostegno con il suo pubblico, come in Tantinao, Noemi e Gianfranca, è meraviglioso, c'è tradizioni, ma il suo pubblico sta spaccendo, con sempre lo spago, i giovani si mancano, si accostano, e tutto canto. E noi, ci stiamo tenendo questa speramanna, che invece, con questa coscienza, che si porta a riprendere, e tendenze, da un pozzo della torraia, come sai, come ti ha cambiato idea tu, e lui, quindi esiste, che non potrebbe essere, che la cambia è in questo numero di te, come stiamo intendo, in dispronanza, e spediamo, invece, ci sia tempo, e possibilità di discutere, sul canto, sul canto sardo. Le voglio grazie, a voi e voi, a Gianfranca, e noi. Grazie di a tutti. E noi, ci parliamo grazie a tutti, perché, pronostare coinvolto in questa trasmissione ebbene non potevano ascoltare e acconoscere meglio su due belle voci del suo canto sardo come ti sei posato e poi questa particolarità di che ha due storici non è che si abbia doni addiri in sa terra nostra due storici bravas tutte e due cantatore di val dunque è una cosa di spanto e di pregio di un po' tutto e devo ringraziare il suo canale si chiede sempre con pregio si iscrivete dunque si vai pregiare a continuare a si contare dei voci nostri se noi ci potete fare grazie a questa cooperativa a me che ha a questa regione sarda che ha questo progetto imprende si aggiunta a registrare le trasmissioni a tenere tutti i collaboratori che traballano per questa trasmissione e dunque se noi susserrano e si tornano su una topia nuova o si aggira che viene con il mio promettio con il suo canto cioè già e non manca pronto di stare in prassenti sa chitarra cosa sua e noi i sorsi dei pittiscenti arrivai a questa tramarte del San Posento e si salutai e noi siamo con pregio sa c'era chi bene e noi ascoltavano Gianfranca e Noemi e noi siamo in questa due voci di canto in re a no? si si a vosso grazie grazie a tutti grazie a tutti a chi terra e poesia. Sa sardinia ostre mia allegra me in t'onorare. E che una disamistade manteni della s'allegria. Pizzocca, arote, sardinia. Pizzocca, arote, sardinia. Pizzocca, arote, sardinia. Pizzocca, arote. Arrivederci, Pizzocca, arote. Grazie a tutti.